ma abbiamo una subaru ma questa è un po dopo il 1975 cosa ci fa la rf2 questa macchina qui che non sappiamo è ferma anche da tempo piena di croppone di olio tutta scassata con gli aghi di pino dentro negli spigoli ma cosa è successo cosa avete in mente di fare il nostro giocattolo questo è un giocattolo vero e adesso vi mostreremo ci siamo betta che sto facendo a caso proviamo magari magari ci siamo anche ripresi cosa dobbiamo fare con questa macchina davide il 20 di combraio i traversi su ghiaccio andiamo a fare cosa a girare sul ghiaccio infatti vedete che le gomme sono già con i chiodini è il nostro giocattolozzo questa qua adesso la prepareremo esatto c'è una battaglia psicologica perché cosa levare che cosa no perché la macchina deve essere leggera stiamo già discutendo ma vedrete che ce la faremo adesso dai laviamo la facciamo questa opera qui catartica dai togli la polvere e comincia la rinascita adesso bisogna ricominciare data lunga è stata dura sono due anni che questa macchina non esce dal cancello adesso la laveremo poi gli mettiamo una gli mettiamo l'olio nuovo il motore è una bomba è partita al primo colpo dopo due anni di fermo qua in cortile gli metteremo l'olio nuovo poi facciamo un po di putrelle davanti per salvare i radiatori perché i nostri amici copiloti e anche noi daranno del bello contro i muri di neve e non solo e non solo urteranno tutto ciò che è possibile e poi andremo a divertirci noi intanto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti